Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Io oggi voglio dedicare questo libro a questo libro. Questo libro è scritto da Vincent Calabrese, il mio francese è penoso parlato, ma è chiarissimo, si tratta di un'autobiografia della vita e delle opere di Vincent Calabrese. Capirete perché ho deciso di fare questo video seguendolo. È una rilettura, la mia rilettura, della vita e soprattutto delle opere di Vincent Calabrese. Il maestro ha avuto la bontà di inviarmi questo libro con una splendida dedica che conserverò tra i ricordi migliori della mia esperienza orologera. Me lo sono letto, me lo sono riletto perché mi sono accorto leggendo il libro che tanta sua opera non è minimamente conosciuta e nemmeno immaginata persino da tanti cultori della materia. Quindi merita di essere valorizzata e conosciuta. In secondo luogo perché quando ho terminato la prima lettura di questo libro ho sentito il bisogno di leggerlo di nuovo perché c'era qualcosa che non mi tornava. Cioè, chiunque di noi scriva una biografia della propria vita e delle proprie opere tenderà ex post ad evidenziale dei filoni della propria attività. Ma filoni teorici, filoni pratici, se ci sono, nel mio caso non esistono quelli pratici perché non so fare un tubo, a differenza del maestro. Ma a ex post si trovano dei fili che legano le diverse fasi, le diverse attività. Ed ex post è sempre possibile farlo. Ma il problema con l'opera e la vita di Vincent Calabrese e con questo suo libro di autobiografia è che tu questo filo lo cominci a tirare non alla fine del libro. Lo tiri mentre lo leggi perché viene del tutto naturale. E attenzione, non è una reazione, l'israzione ex post. Oppure in itinere, no? Cioè, in cui tu costruisci dei collegamenti fra le diverse fasi di attività. No, è in vivo. Cioè, discende non dal racconto di Vincent Calabrese, ma dalle opere di Vincent Calabrese. E poi, naturalmente, lui ha realizzato quindi quella che si potrebbe definire una straordinaria coerenza creativa. Cioè, ha combinato una grandissima creatività nella coerenza e viceversa. E guardate che questa cosa, che può sembrare banale, non lo è per niente. Non lo è per niente perché, ripeto, questa coerenza nella creatività emerge dalle opere. Non è una razionalizzazione ex post o durante o in itinere. Ma è in vivo. Cioè, deriva dalle sue opere. E quindi essere creativi, innovatori, al tempo stesso coerenti, è, credo, uno degli esercizi più rari e più difficili che la vita di un artista possa compiere. Perché, ovviamente, questi due valori apparentemente sono già rari trovarli separatamente nelle vite delle persone, ma poi addirittura congiuntamente è quasi impossibile, quasi unico. E allora ho detto, no, merita che io ci faccia un video e merita che io provi a dare questa lettura, illustrandola, dell'opera di Vincent Calabrese. Vediamo se si dice che la fortuna aiuti gli audaci e qui ce n'è parecchio bisogno. Prima di passare a vita e opere del maestro, ancora una precisazione. Questo libro, questo libro non si trova, purtroppo, normalmente nelle librerie, può darsi che si trovi nelle pochissime librerie che hanno reparti o sono interamente dedicate all'orologeria, può darsi. È un libro di qualche anno fa, ma di pochi anni fa, è piuttosto nuovo, 2016, infatti, edizione Slatkin, Slatkin, quindi Slatkin, probabilmente, oppure Slatkin, alla francese, edizione Slatkin, francese, Genève. Ne sto parlando con il maestro perché mi piacerebbe che molti di voi che lo volessero potessero riceverlo, anche se è in lingua francese, ma io credo che potenzialmente ci possa essere un pubblico che lo possa leggere. E da quello che ho capito, copie disponibili, il maestro ne ha. Quindi vi inviterei a controllare la descrizione del video perché io voglio arrivare a darvi un metodo preciso per avere il libro, sapendo dove e come si possa trovarlo, e ne sto discutendo col maestro, quindi quando ci sono novità le metterò nella descrizione del video. Calabrese nasce nel gennaio del 1944 a Napoli e ha i suoi primi anni di vita, quelli anche dell'adolescenza, sono anni difficili di un italiano di Napoli che praticamente nasce sul finire della seconda guerra mondiale con tutto quello che questo significa e non è non è uno di quelli che per qualche strana ragione pensa dall'inizio all'orologeria, viene diciamo indotto a imparare l'orologeria soprattutto e privilegiando l'aspetto del saper fare un po' da una serie di circostanze della vita per cui si trova ad apprendere con un percorso piuttosto tortuoso inizialmente di studi i rudimenti dell'arte orologiera lo fa un po' per caso appunto per circostanze della vita e a un certo punto si trasferisce nel 1961 con la madre e le locla fratello e sorella erano già lì con tutte le difficoltà tutte le difficoltà dell'inserimento di una famiglia italiana di Napoli alle locla perché le locla per noi appassionati di orologeria è importante perché sta nel giuro a Svizzero ed è un paese uno delle capitali dell'orologeria svizzera come Neuf-Châtel come come la Schofond in cui poi Vincent Calabrese si trasferirà più avanti poi Lausanne Mottier eccetera eccetera ma è anche un paesino piccolo di provincia tra virgolette e naturalmente siamo all'inizio degli anni 60 l'Italia viene da una stagione di sconfitta della seconda guerra mondiale di povertà conseguente e il meridione d'Italia ancora più caratterizzato da questi stereotopi e diventa terra di emigrazione verso la Germania verso la Francia verso l'Inghilterra verso il Belgio verso l'Olanda insomma verso tutti i paesi del nord Europa in cui era più facile trovare lavoro e quindi si porta dietro anche le stimmate di una certa discriminazione o comunque di una non integrazione né facile né immediata ma molto laboriosa nella società soprattutto di Le Locle mentre già alla short fund c'è un clima più aperto e lui fa esperienza lavora da Sima che è per chi conosce il vintage una piccola ma gloriosa fabbrica di orologeria lavora da Zenit fa due stage se ho capito bene tre mesi ciascuno presso Patek Philippe e presso Rolex e poi lavora anche da alcuni rivenditori anche di una certa importanza in cui lui tende sempre a occuparsi di aspetti tecnici quindi del restauro di orologi soprattutto della riparazione di orologi e soprattutto nell'attività di restauro lui sottolinea avevo sempre la tendenza nel cercare di capire come funzionava un meccanismo di migliorarlo ma naturalmente se un orologio è in restauro il restauro non deve prevedere il miglioramento quello è un moddare secondo un italianismo orribile un moddare da modding cioè un personalizzare un mutare un trasformare un prodotto e quindi la sua professionalità gli imponeva di non migliorarlo però sentiva già proprio la spinta naturale a dire beh questo forse potrebbe essere fatto un po' meglio piuttosto che come è stato fatto all'epoca dall'orologiario che era costruito e si trova anche appunto a lavorare a orologi importanti quindi questa lunga fase è molto impara molto da questo impara tutte le volte che può e tende ad andarsene quando si rende conto che le prospettive di lavoro di carriera e di anche retribuzione anche di retribuzione malgrado allora siamo ai primi anni 60 l'orologia a Svizzera cominciava a sentire un po' la crisi però non eravamo ancora la crisi di metà anni 70 ma insomma c'era già un'area di crisi ma malgrado questo l'orologia era ancora fiorente eppure un po' per la sua provenienza italiana un po' per tutto quanto diciamo che non era lauttamente retribuito per usare un eufemismo fino a che poi lui racconta lavorando alla riparazione di orologi quindi dei meccanismi di orologi molto prestigiosi si presenta un cliente con un breguet da donna del 1861 quindi un breguet da donna da tasca di grandissimo valore e praticamente il meccanismo è completamente fermo la riparazione del meccanismo richiede circa 800 franchi la riparazione della cassa che era ancora più danneggiata richiede 2000 franchi e il proprietario di fronte a un pezzo di questo valore dice no mi ripari la cassa quindi spendo 2000 franchi ma non spendo 800 franchi per rimettere in funzione il meccanismo quindi lo tiene così fermo quindi contava solo l'estetica e lui ha giustamente una fa una considerazione cioè che anche allora l'orologeria era soprattutto estetica e chi lavorava la parte meccanica faceva un gran lavoro intellettuale oltre che manuale ma era poco pagato e poco riconosciuto perché i clienti spendevano più nell'estetica e a volte addirittura fino all'assurdo di far riparare solo esteticamente un orologio e tenerlo fermo se col movimento bloccato per non spendere 800 franchi su un pezzo di grande valore e allora da quel momento lì lui matura un po' proprio la spinta propulsiva a dire come mi piacebbe fare orologi e invece di mettere in mostra l'aspetto da gioielleria cioè quindi casse bracciali e quadranti eccetera mette in mostra quello che normalmente non si vede il movimento cioè un orologio che viene scelto per la bellezza del movimento che si fa estetica che è un concetto che oggi molti indipendenti tra i più bravi percorrono ma in quegli anni lì era un concetto assolutamente desueto poi si entra negli anni 70 addirittura c'è la crisi provocata dal quarzo e quindi le difficoltà aumentano chiaramente e è a questo punto che insomma lui comunque decide è uno dei pochi che in quella congiuntura pensa ancora all'orologeria meccanica e pensa che abbia un futuro anzi paradossalmente il successo del quarzo fa sì che ci sia una limitatissima ma facoltosa clientela di tutto ciò che è meccanico proprio perché è diverso dal quarzo dilagante sempre più a basso costo il quarzo è sempre più giapponese e quindi e quindi si arriva alla realizzazione di quello che sarà poi chiamato il Grand Elbris lo staging Rolex in particolare gli aveva fatto comprendere come alla base ci fosse un conservatorismo folle e che probabilmente la possibilità di rilanciare l'orologeria meccanica secondo Vincent Calabrese non poteva che derivare invece da uno sforzo di allontanarsi dai sentieri battuti per migliorare il prodotto per farlo più bello per farlo diventare un oggetto praticamente artistico e quindi Vincent Calabrese dopo lo stage alla Rolex decide no è arrivato il momento di mettermi in proprio e di fare i miei orologi e all'inizio insomma le ambizioni sono anche modeste perché naturalmente non ha una gran attrezzatura qualche vecchio strumento sa fare ma ha vecchi strumenti e non può accedere a materiali o a strumentazioni costose non ne ha neanche lo spazio inizialmente e tutto sommato nessuno gli aveva mai dato un vero e proprio diploma di orologeria anche se di fatto era un orologiario capace e quindi lui dice ma io devo dimostrare anzitutto a me stesso di essere in grado di fare e quindi parte con l'idea di una sveglia quindi di un orologio abbastanza semplice poi pian piano nasce invece l'idea dell'orologio spaziale allora io voi sapete il Golden Bridge è un orologio spaziale perché? perché l'idea di base del Golden Bridge è quella di fare un calibro della forma decisa dal cliente che poteva essere un iniziale dell'alfabeto poteva essere non so il disegno dell'Italia vedremo dopo una cosa stupenda per me su questo e il movimento doveva avere una forma libera a scelta del cliente ma allora se la forma deve essere libera beh è chiaro che la corona il meccanismo della corona solito a ore tre non poteva funzionare perché il meccanismo della corona per la ricarica e la messa all'ora era ovviamente un impedimento alla libertà della forma del calibro e poi soprattutto se in passato c'erano stati orologi di diversa forma i calibri erano di forma ma erano nascosti invece lui voleva che del suo calibro si vedesse cioè che il suo calibro fosse l'estetica e quindi si vedessero le ruote e lo scappamento interamente funzionante che secondo Calabrese era l'elemento più spettacolare dell'orologio io sono d'accordo con lui è proprio il funzionamento di bilanciere e scappamento che è molto bello da vedere è qui che nasce l'idea dell'orologio spaziale cioè di un calibro libero dalle costrizioni della cassa con forma scelta dal cliente quindi senza la corona a ore e tre naturalmente per arrivarci c'erano diversi problemi ma il primo problema era quello della corona perché ci voleva un meccanismo per la carica e per la regolazione che fosse fratico ma non fosse quella a ore e tre lui inventa un meccanismo che tramite l'albero di carica del bariletto consente anche la rimessa all'ora e lo pone sul retro quindi non impatta visivamente non collega meccanicamente il bordo della cassa con il calibro perché appunto è sul retro appunto in corrispondenza dell'albero del bariletto che appunto ricarica e questo ha richiesto insomma un notevole sforzo che non è durato poco per arrivare a questo risultato e quindi spaziale perché appunto il calibro è libero da costrizioni fisiche rispetto alla cassa no? Quindi è un calibro in tre dimensioni e quindi anche se probabilmente Vincent Calabrese non era consapevole quando ha creato e ha avuto l'idea di denominare come spaziale questo tipo di orologio si trova un parallelismo con la pittura spaziale del manifesto degli pittori spazialisti del 48 e di Lucio Fontane in particolare perché? Perché anche l'idea dei pittori spazialisti è appunto quella della tridimensionalità la tela era soprattutto il quadro l'arte visuale non scultorea e soprattutto bidimensionale tendenzialmente perché lo spessore è minimo o comunque è una parte trascurabile Fontana voleva andare al di là della tela e i tagli sulle tele servivano proprio a far vedere che di là dalla tela c'era un'altra dimensione e Vincent Calabrese non per evidenziare un'altra dimensione ma per far vedere il calibro in tutti i suoi ruotismi fondamentali e soprattutto per consentire di avere calibri con le forme più diverse ispirate dai clienti appunto aveva bisogno di un calibro libero rispetto ai bordi della cassa e quindi gli olologi spaziali e quindi lui pensa come primo olologio spaziale di farlo a barretta diciamo a baguette o a forma di si potrebbe considerarlo precisando comunque che l'idea di questo primo prototipo di orologio spaziale di Calabrese era quella di farlo come un fiammifero cioè di fare un calibro come fiammifero quindi non era lì tanto l'idea della forma libera ma era l'idea di fare un calibro che avesse un uovo privato perché fino ad allora i primati erano l'orologio più complicato l'orologio più sottile ma mancava l'orologio più stretto stretto e lungo e quindi appunto il prototipo del Golden Bridge ha una lunghezza di 29 mm una larghezza di 2,30 mm e un'altezza di 3,20 mm quindi 2,30 mm è di gran lunga il calibro più stretto che sia mai stato fatto e iniziò anche a costruire una cassa per questo orologio una cassa trasparente che l'idea era che il calibro apparisse sospeso dentro questa cassa mettendo in evidenza appunto scappamento bariletto e tutto quanto e tutto disposto in linea tutti i componenti disposti in linea quindi anche messi nel modo più visibile possibile tutti attaccati a un ponte ecco e da lì poi le sfere e questo orologio viene fatto vedere a conoscenti del mondo anche dell'orologeria e subito i pareri sono estremamente positivi perché nel 77 quando lui realizzò questo orologio non si era mai visto nulla di simile e quindi veramente ebbe la sensazione di aver non solo superato l'autoesame da orologiaio ma di aver creato veramente qualcosa di nuovo e qualcosa che lo poteva far vivere tramite il museo di La Schottfond museo internazionale dell'orologeria ai cui responsabili lui mostra questo orologio lui viene messo in contatto con Corum e Corum acquista il brevetto di questo orologio nel 77 e l'accordo che viene fatto è che Calabrese riceverà dei compensi per ogni orologio venduto e l'altra parte dell'accordo è che il nome di Calabrese dovrà comparire in tutto il materiale che descrive questo orologio in realtà purtroppo questo straordinario orologio andrà in produzione solo nel 1980 quindi ben tre anni dopo poi chiesero a Calabrese di essere autorizzati a togliere il nome Calabrese perché è un nome italiano un nome difficile da pronunciare e però in cambio di una royalty maggiore e lui un po' a malincuore accetta poi in realtà Corum si comporta bene perché in realtà poi mi sembra in un certo salone importante dell'orologeria è bene evidenziato il nome di Calabrese quindi comunque i competenti gli esperti gli addetti ai lavori sanno che l'orologio l'ha fatto lui l'orologio è a tutti i ruotismi appesi a un ponte d'oro quindi Corum decise di chiamarlo Golden Bridge torniamo un attimo al 77 quando vinse in Calabrese all'esposizione al Salone delle Innovazioni di Ginevra vinse la melaglia d'oro appunto per l'invenzione di questo orologio di questo calibro spaziale e qui vediamo vediamo appunto il Golden Bridge prima versione secondo me di bellezza ineguadiata dalle successive lo devo lo devo dire magari le successive saranno forse diventate un po' più robuste un po' più come va di moda oggi diciamo così versatili però il fascino di questa prima versione rimane unico quindi a Lausanna apre un laboratorio un laboratorio che diciamo così ha lo scopo un piccolo laboratorio preso in affitto che ha lo scopo di realizzare gli orologi spaziali che gli clienti gli avrebbero commesso ma prima dell'ottanta cioè prima che usisse il Golden Bridge naturalmente gli ordini sono pochi poi sono anni difficilissimi per l'orologeria meccanica ma poi lui non è così conosciuto e non era ancora cominciata l'opera di corum di pubblicizzazione del suo nome quindi la vita è difficile i denari sono pochi e quindi le difficoltà sono grandi ma è convinto Vincent delle sue qualità giustamente infatti gli hanno dato ragione e quindi e quindi va avanti e nel 1983 il museo di Lelocle organizzò un concorso per festeggiare i suoi 25 anni di esistenza che scadeva diciamo occorrevano nel 1984 si trattava di realizzare un orologio pendente con affissione dell'ora analogica potevano essere presentati tre progetti e lui Vincent partecipa con orologi spaziali il primo è un orologio con una cassa di forma rettangolare arrotondata un movimento in linea con uno scappamento tourbillon che nel 1983 nessuno faceva non ci dimentichiamo che il tourbillon era stato brevetato nel 1801 da Breguet e che da allora gli orologi da tasca con tourbillon erano stati circa 600 e quelli da polso erano rarissimi rarissimi erano stati esemplari da concorso e per il resto veramente rari rari proprio unità ecco non di più quindi nessuno sapeva fare nessuno sapeva bene cos'era un tourbillon nel 1983 eccetto Calabrese ovviamente il problema però che il museo di Lelocle gli respinse il progetto perché disse ma tanto noi non sappiamo poi a chi farlo fare lo faceva Calabrese stesso cioè non era solo un progetto lui l'aveva costruito l'orologio e quindi questi orologi questa è l'anomalia non è che Calabrese perse il concorso perché ritenevano che nessuno potesse fare un tourbillon con quelle dimensioni molto stretto perché appunto era un movimento in linea con scappamento tourbillon ma praticamente furono in una fase molto preliminare della gara furono esclusi cioè non vennero selezionati dai giurati quindi parteciparono alla gara ma furono eliminati quasi subito per questa ragione che ho detto cioè che si pensava che nessuno sapesse fare un tourbillon quindi avevano l'occasione nel 83 di avere a questo concorso addirittura un tourbillon appendente di dimensioni mai viste dopo che per anni non si facevano più tourbillon e con dimensioni assolutamente inedite e l'hanno persa e Calabrese è risultato fuori concorso ecco questa è la cosa assurda che capitò alle Locle non gli credettero non gli dettero fiducia e forse pesò anche il fatto di essere italiano cosa sia un tourbillon per la verità molti non lo sanno neanche oggi anche se ne parlano ma questa è una mia considerazione personale ecco e il secondo era invece aveva una forma di scudo era chiamata personel con un movimento in forma di lettera M come Muse a mio avviso tra l'altro straordinariamente bello ve lo voglio far vedere perché è davvero davvero notevole il terzo sempre pendente in forma di H però poi fu accolto un progetto che usava un movimento Golden Bridge quindi in un certo senso aveva vinto appunto lo ricordo credo di averlo detto prima ma il Golden Bridge aveva uno spessore il calibro di 3,20 mm e una larghezza di 2,30 quindi veramente veramente l'orologio più stretto non il più sottile era molto sottile ma l'orologio più stretto il calibro più stretto mai creato un altro grande successo di questi anni è nel 1985 la creazione dell'Accademia degli Orologiai Indipendenti allora lui Calabrese stava appunto sulla propria pelle sperimentando la difficoltà di visibilità degli Orologiai Indipendenti anche perché le case le grandi case tenevano nascoste queste collaborazioni questi mandati che venivano affidati a Orologiai esterni e indipendenti li tenevano nascosti come li tengono nascosti anche oggi non è che sia cambiato molto da questo punto di vista e quindi l'idea appunto dell'Accademia serviva proprio a dare visibilità a dare il giusto peso a questi Orologiai che vivevano del proprio lavoro poi lasciamo stare che oggi il termine indipendente è diventato abusato per cui anche Patek Philippe è indipendente perché oggi ha assunto un altro significato indipendente nell'Orologeria un uso distorto del termine che ha introdotto Calabrese nell'Alto Orologeria svizzera ma Calabrese intendeva l'artigiano che viveva del suo lavoro che non era le dipendenze della grande industria del grande marchio e che magari la domenica faceva non so se va bene faceva qualche pezzo suo no no erano proprio Orologiai che avevano bisogno perché lavoravano solo del loro lavoro artigianale e non erano dipendenti da nessuno oggi invece indipendente vuol dire che non fanno parte dei grandi gruppi cioè Richmond LVMH Kering Schwarz Group ecco quindi un significato diverso tornando alla fondazione dell'Accademia Calabrese conosceva Sven D'Andersen da anni e Sven D'Andersen aveva fatto parte di un'associazione di Orologiai indipendenti ginevrina che poi si era sciolta per dissapori e allora ha l'idea di creare un'associazione internazionale di Orologiai indipendenti in cerca di visibilità e di sponsor che facessero da committenti dei lavori e alla fine grazie al successo del Golden Bridge e al riconoscimento che aveva ricevuto lui riesce a far pubblicare su diverse riviste orologiere del mondo degli annunci di questa creazione a fine del 1935 a Lausanna una decina di artigiani creano gettano le basi di questa associazione subito dopo per far crescere l'associazione per darle subito un'attività e un respiro ampio Vincent Calabrese pensa a due colleghi indipendenti molto importanti uno è sicuramente George Danyes e Dominique Loiseau è quello che poi progetterà il 1735 ma ne parleremo dopo perché rincrocia di nuovo la vita di Vincent Calabrese e la sua opera Dominique Loiseau purtroppo dopo aver aiutato la fondazione facendo un gran lavoro preparatorio con Calabrese al museo di Lelocle per fondare per gettare le basi della fondazione dell'Accademia tuttavia ne molto presto dovrà uscire però ne deve uscire perché diventa praticamente non più un orologiario indipendente ma le dipendenze di Omega quindi segue dei progetti diventa dipendente di Omega e quindi non è più un orologiario indipendente Giordani aderirà ma nel 1988 cioè qualche anno più tardi l'Accademia esiste ancora oggi e tutti riconoscono che abbia avuto un ruolo molto importante per l'orologeria indipendente un ruolo che tra l'altro io avevo un po' sottovalutato per alcuni anni ma studiando ma studiando bene la storia questo ruolo è stato importante per lanciare alcuni orologiari fra Muller e Jurn su tutti ma poi molti altri ed è stato uno dei più grandi successi indubbiamente di Vincent Calabrese ma questi anni sono molto importanti per lui infatti il 29 giugno 1985 quando viene inaugurata l'Accademia dell'Alta Orologeria l'Accademia dell'Orologeria Indipendente lui mostra un turbion un primo turbion fabbricato quindi quel progetto che aveva proposto nel concorso di Lelocle in realtà diventa realtà viene mostrato questo turbion che ha delle caratteristiche cioè non solo nessuno faceva più turbion io ricordo che il primo orologio da polso che gli propone un turbion di serie è l'Odemar Piguet del 1986 che era considerato estrapiatto e che aveva delle soluzioni anche abbastanza sconcertanti cioè la gabbia del turbion era piccolissima in un angolo e era veramente minuscola e addirittura l'orologio era il primo orologio che si serviva della cassa come platina inferiore del calibro come ponte del calibro inferiore quindi ponte non platina inferiore del calibro nell'85 però lui presenta già un turbion una sorta di prototipo diciamo che ha delle caratteristiche uniche oltre che essere un turbion perché lui dice io non volevo fare i turbion che si erano visti fino a quel momento cioè con il bilanciere concentrico perché visualmente era una soluzione che non mi piaceva ricordate che lui negli orologi spaziali vuole far vedere i grottismi e il funzionamento del bariletto del treno del tempo dello scappamento completo che è la parte più spettacolare con il bilanciere e seguendo quella linea cioè voi ricordate sul sul golden bridge lo scappamento è in linea e si vede molto bene e lui anche sul turbion vuole la stessa soluzione vuole far vedere bene lo scappamento e allora decide di progettare disegnare una gabbia minima minima che poi sarà copiata da tanti diventerà famosa ma soprattutto decide di spostare il bilanciere alla periferia della gabbia quindi non avere il bilanciere concentrico alla gabbia ma spostato quindi eccentrico rispetto al centro della gabbia e questo richiede un'equilibratura più complicata più complessa della gabbia ma si può fare e questo consente di avere così in vista scappamento e ruota dello scappamento con una visione una spettacolarità del sistema che non ha paragoni con i tourbillon con gabbia concentrica materiale della gabbia bisogna fare un ragionamento perché su questo prototipo Calabrese fece la gabbia minima ma la fece in acciaio anche per ragioni di costi perché naturalmente non era sicuro poi di poter vendere questo olologio quindi la fa in acciaio come si faceva tradizionalmente perché naturalmente molti quasi tutti che aveva fatto tourbillon nel passato dava molta importanza alla leggerezza è solo che si rende conto Calabrese che in acciaio è un grossissimo errore perché l'acciaio è magnetico quindi creare un sistema che toglie un errore dovuto all'azione della gravità sul compensa con la rotazione un errore dovuto all'azione della gravità sulla spirale del bilanciere ne introduce poi un altro come abbiamo visto per via di quel pignone che ingrana con una ruota fissa perché appunto è un sistema satellitare il tourbillon ma in più la gabbia in acciaio è anche magnetica quindi lui è costretto a farlo in acciaio ma si rende conto che è un grosso errore infatti non su questo prototipo ma successivamente lui farà un tourbillon con la gabbia in oro per far vedere che anche se il peso della gabbia è più alto come si ottiene con l'oro tuttavia se si lavora bene si riesce lo stesso a fare un tourbillon che funziona e che rende sul piano cronometrico questo tourbillon ha un ponte superiore minimo non è ancora volante come quello che svilupperà per Blampen e questa è un'altra cosa che va detta noi qui vediamo già due esemplari di questo tourbillon assolutamente straordinari con movimento appunto in oro sempre sull'idea del Golden Bridge quindi in linea e questo tourbillon fece molto discutere perché molti cominciarono a dire che era un carusella però senza neanche sapere bene né cos'era un tourbillon né cos'era un carusella qui differenza come ho spiegato in un video di parecchi mesi fa la differenza non è nell'aspetto cioè se la gabbia è concentrica con il bilanciero o meno ma la differenza è costruttiva cioè è nel proprio nel modo in cui funziona che è molto diverso anche se è mirato ad ottenere lo stesso fine però mentre nel tourbillon c'è una ruota fissa su cui ingrana il pignone della ruota di scappamento quindi il bariletto fa ruotare la gabbia alla gabbia è attaccato il pignone della ruota di scappamento che ingrana con una ruota fissa e quindi mette in moto col movimento della gabbia mette in moto il movimento della ruota di scappamento che quindi aziona l'ancora che quindi poi aziona il bilanciere ed ecco come funziona il sistema nel tourbillon mentre invece nel carusella non c'è questa ruota fissa con il pignone il perno che ruota con gli svantaggi che questo comporta come ha spiegato come ha spiegato il maestro Calabrese nel precedente video quell'intervista con lui perché ha dimostrato che proprio se un orologio con il tourbillon è messo in verticale sta in verticale io ricordo che quel tourbillon lì fu pensato proprio per orologi da tasca che passavano la maggior parte del tempo in posizione verticale noi vediamo che c'è una è vero che la ruotazione annulla o compensa l'effetto della gravità sulla spirale ma è vero che poi la gravità ricompare con un effetto negativo proprio sul pignone perché poiché ruota torna a una ruota fissa un conto è quando è a ore 12 un conto è quando è a ore 6 la forza di gravità nei due momenti è molto diversa quando appunto l'orologio è in verticale e quindi lì si introduce un altro errore e non è un piccolo errore quindi si risolve un errore lo si compensa con la rotazione ma si introduce un altro e proprio per eliminare questo errore il carusello invece prevede che ci sia un treno che muove la gabbia e un treno che muove lo scappamento il bilanciere eccetera quindi non c'è il meccanismo della ruota fissa col pignone che ingassa in sintesi potremmo affermare che se il turbione è un sistema satellitare perché ruota torna una ruota fissa invece il carusel è un sistema differenziale però se già il turbione era sconosciuto figuriamoci il carusel tant'è vero che questa confusione andò avanti molto a lungo ed ecco che nasce la collaborazione con Blampen perché Jacques Piguet che era il comproprietario di Blampen insieme a Jean-Claude Biver Jacques Piguet appunto che possedeva era l'ultima erede di Frédéric Piguet costruttore di calibri di alto livello e che forniva i calibri a Blampen oltre che ad altri costruttori era probabilmente il fornitore di calibri di più alto livello ancora esistente in Svizzera nei primi anni Ottanta e decide invece di sposare la tesi di Calabrese anzi Calabrese quando gli viene chiesto un tourbillon per Blampen Calabrese propose due versioni un tourbillon tradizionale e il tourbillon con appunto bilanciere eccentrico eccetera eccetera volante e lui accettò questa soluzione e quindi venne realizzato questo orologio tra l'altro la soluzione della gabbia eccentrica consente anche di avere un minore spessore e quindi quel calibro era un record perché con 13,20 mm e allora prima di tutto era il primo tourbillon volante della storia poi era il primo tourbillon che ruotava a 60 secondi su un orologio da polso era di gran lunga il più sottile era l'unico con otto giorni di riserva di carica in più aveva anche un indicatore di riserva di carica e anche un datario e in più proprio perché tutta la creazione di Calabrese era attesa a valorizzare il calibro appunto a far acquistare valore all'orologio per il calibro e non per l'estetica fine a se puramente detta tradizionalmente intesa anche su questo orologio che avrebbe senz'altro avuto il quadrante però lui Vincent Calabrese insiste per avere la massima visione del suo particolarissimo tourbillon e quindi dice no bisogna fare la finestra del tourbillon al 12 non al 6 come tendenzialmente si era fatta fino a quel momento perché se viene esposto in una vetrina una versione automatica il rotore tende a coprire il tourbillon a ore 6 e invece se lo si fa al 12 questo problema non c'è poi lui pretese anche che sia la cassa nel lato B sia la platina del calibro posteriore fosse forata in modo da far vedere tutta la trasparenza del tourbillon cioè da far vedere il tourbillon al massimo e tra l'altro dotò questo foro di superfici coniche lucidate a specchio che è guardate dopo tanti anni la stessa soluzione che utilizza oggi François Paul Journe sul suo tourbillon verticale sul foro del tourbillon verticale che è anch'esso superficie coniche anch'esso è lucidato specchio per raccogliere la luce per avere il migliore effetto di luce che ci possa essere sul dispositivo e peraltro quel tourbillon così particolare è anche il primo che ha quella trasparenza per esempio oggi uno prende un orologio di Beauvais anche di una vicina d'anni fa vede che i suoi tourbillons sono tutti trasparenti da entrambi i lati voi sapete che molti Beauvais hanno Cassel Adamo reversibile e quindi si usano sul lato A e sul lato B e il tourbillon deve essere ugualmente visibile da entrambi i lati e quindi fanno i tourbillon trasparenti ecco il primo che ha pensato tutto questo perfettamente in linea con la soluzione del Golden Bridge è stato proprio Calabrese peccato però che questo orologio appunto che lui propose a Piguet di brevettare ma che Piguet non brevettò perché disse ma chi voi altri che faccia un tourbillon così poi dopo poi ci fu il tourbillon di AP che però era completamente diverso nell'89 ci fu un tourbillon di Breguet e di Roth di Daniel Roth molto bello a mio avviso quello di Roth in particolare e poi i cinesi dalla fine degli anni 90 iniziarono a produrre il tourbillon con la stessa soluzione la stessa gabbia di Calabrese proprio perché non era stato brevettato e nel frattempo il tourbillon di Breguet cioè il masterpiece più masterpiece probabilmente di tutti gli altri non vedeva la luce cioè era stato presentato non veniva prodotto verrà prodotto solo a partire dal 91 e perché perché alla fine Jacques Piguet si lasciò convincere da Dominique Loiseau di dare la precedenza al 1735 che era un pluricomplicato da lui progettato che però era un orologio da produrre sotto sottoscrizione quindi con un anticipo erano già tutti venduti la piccola serie dei 1735 la sottoscrizione era di un milione di franchi svizzeri a pezzo quindi insomma notevole e Bramperne e Jacques Piguet erano problemi enormi a fare questi calibri che erano bellissimi perché belli erano belli ma dovettero riprogettarlo quasi completamente perché non funzionava bene Dominique Loiseau tra l'altro morì non tanti anni dopo purtroppo però insomma questo 1735 sapevo anch'io aveva sempre avuto problemi anche se ripeto un calibro strepitoso e un pluricomplicato da sogno per quegli anni e quindi ancora una volta l'opera di Dominique Loiseau interferiva con i progetti meno ambiziosi ma più concreti e comunque estremamente innovativi di Calabrese ritardandoli Calabrese racconta una scena di un salone nel 90 in cui c'era lo stand Blampen con Biver lui si avvicina e dice ma che fine ha fatto il tourbillon e lui non capiva neanche di cosa parlava disse indicando il 1735 che aveva al porso ma sta parlando di questo e no un altro orologio insomma non ne sapeva niente poi nel 91 uscì per fortuna però Calabrese non stette fra l'85 e il 91 con le mani in mano cercò di valorizzare visto che Blampen non si decideva a far uscire questo tourbillon decise comunque di provare a valorizzare la propria invenzione in termini di tourbillon con alterna fortuna come vedremo tra poco quello che qui vedete è l'esprit di Vincent Calabrese presentato nell'86 per avere un modello base della collezione spaziale che nel frattempo non si vendeva tanto bene e il tourbillon Blampen come ho detto nell'86 era ancora molto lontano da uscire quindi per incentivare le vendite un po' in tutti i paesi pensa di creare un modello base questo esprit è coniuga diciamo così tecnica con filosofia perché l'idea era quella di avere un movimento simil baguette ma non più baguette con due braccia quello alle ore 6 contiene il bariletto quindi la forza creatrice la forza motrice dell'orologio quell'ore 12 c'è lo scappamento e l'organo regolatore quindi il controllo tecnico ecco è un modo per fare dell'arte uscendo un po' strettamente dall'arte figurativa ma senza andare nell'arte astratta che a Vincent non piace mentre a me piace moltissimo visto il successo dell'accademia orologiera dei creatori indipendenti subito viene fatta richiesta alla fiera dell'orologeria annuale di poter avere uno stand e dal 1987 lo stand ci sarà ci sarà viene concesso uno spazio aspositivo appunto denominato AHC nell'87 con otto artigiani negli anni successivi con numeri un po' più importanti e dall'87 all'89 questo spazio fu concesso gratuitamente poi in realtà fu concesso dopo soltanto a pagamento come un qualsiasi altro espositore indubbiamente il successo dell'accademia un po' l'ho già spiegato cosa era dovuto era dovuto molto al fatto che appunto con la crisi del quarzo l'orologia meccanica era diventato preda sempre più di pochissimi di pochissimi conoscitori esperti che erano affamatissimi di calibri solo che le aziende che producevano calibri meccanici ormai non esistevano praticamente più e chi c'era produceva calibri di base calibri piuttosto tradizionali oppure calibri del passato ma calibri complicati o calibri per orologi speciali non c'erano più quindi quei pochi che riuscivano a fornire questi calibri erano presi d'assalto e quindi le case orologere capirono che c'era una domanda da soddisfare che loro non potevano soddisfare internamente e quindi davano mandati ad artigiani dell'AHCI per fare questi orologi che loro non sapevano più fare ed ecco perché diversi artigiani dell'AHCI ricevono delle commesse dalle case e alcuni come dicevo Frenmuller e François Pauljourna diventano molto famosi poi diventano orologiari impropri addirittura marchi creano marchi ma i nomi che si potrebbero fare sono tanti anche di quelli che hanno avuto contatti per periodi brevi dell'AHCI pur non facendo parte dell'associazione l'AHCI poi all'inizio aveva artigiani europei ma poi iniziò a reclutare artigiani dalla Cina addirittura e anche dal Giappone dove sappiamo gli appassionati di orologeria sono veramente molto numerosi non è un caso che nel 2010 al Grand Prix dell'orologeria di Ginevra quello che si tiene anche oggi venne riservato il premio speciale della giuria per l'AHCI riconoscendo il ruolo che aveva avuto nel rilancio dell'orologeria meccanica nell'alto l'orologeria meccanica ma la fiera di Basilea del 1987 che vede il debutto come espositore appunto dell'Accademia va ricordata nella storia di Vincent Calabrese perché lì un orologiario italiano un orologiario nel senso di venditore di orologi italiano Anselmo Grimaldi di Milano gli ordinò sei orologi spaziali con il calibro a forma d'Italia cinque cinque esemplari in oro giallo e un esemplare addirittura in platino e voi vi potete immaginare come sia difficile lavorare il ponte dell'orologio spaziale in platino nessuno ha mai fatto un calibro con ponti e platine in platino e non è un caso è stato un esemplare unico vedete le immagini a sinistra c'è quello in oro a destra c'è quello in platino sono meravigliosi meravigliosi perché c'è proprio il movimento alla forma dello stivale trovo che abbia un disegno che è fra il geniale e il fantastico cioè è veramente straordinario alla fiera di Basilea del 1988 visto che ancora non era commercializzato il tourbillon di Blampen Vincent Calabrese decide di proporre un suo spaziale col tourbillon volante di Blampen col movimento a baguette orologio fantastico che vedete in queste immagini purtroppo però la sua eccessiva semplicità all'epoca non fu compresa poi eccessiva apparente perché in realtà è un orologio rivoluzionario lo è ancora oggi figuriamoci in quegli anni in quegli anni era straordinariamente rivoluzionario e non viene compreso e quindi non fa non fa molta notizia e la situazione nello 38 appare un po' triste perché effettivamente dopo 12 anni dalla creazione il Golden Bridge Vincent Calabrese non riesce ancora a vivere del suo lavoro perché il Golden Bridge si si vende ma le royalties non sono altissime ovviamente i propri orologi spaziali fanno fatica a vendersi il tourbillon di Blampen viene ritardata la sua messa effettiva in produzione e quindi è difficile la vita malgrado lui come orologiario si è sempre più conosciuto dal mondo dell'industria e quindi decide di fare qualcosa che fino allora non aveva mai fatto cioè decide di fare un orologio con cassa calibro e quadrante più tradizionali che non vuol dire che non siano innovativi sono solo più tradizionali nasce quindi alla fiera di Basilea dell'88 anzi viene presentato a Vicenza nella fiera orologeria di Vicenza che si tenne nel gennaio dell'89 il Baladenne il Baladenne il nome ricorda una sorta di cantastorie vagabondo italiano Baladenne è un orologio a ora vagante e a ora saltante perché non ci sono le lancette di ore e minuti ma come potete vedere abbiamo un indice che indica i minuti e quando quest'indice arriva ai 60 salta istantaneamente la cifra dell'ora quindi un'indicazione semplice razionale e assolutamente innovativa il Baladenne piace molto Grimoldi se ne innamora lo fa girare fra gli stand di questa fiera di Vicenza e alla fine riuscirà ad avere molti apprezzamenti e anche riuscirà a vendere il brevetto di quest'orologio a Pinco un'azienda appunto italiana e la quale poi ordinò anche dieci orologi spaziali e spree quelli che avete visto prima e questo diede un bel respiro economico quindi quello che poteva essere l'ultima sfida o la valua spacca di Vincent Canabrese con un orologio per certi aspetti più tradizionali comunque molto innovativo viene per il momento vinta tant'è vero che a febbraio del 1989 quindi un mese dopo la fiera di Vicenza convince il direttore di una rivista italiana indira una sottoscrizione per dieci tourbillon volanti quelli appunto presentati un anno prima e naturalmente questi dieci orologi sono le incisioni sono a scelta di personalizzazione del cliente di ciascun cliente e la rivista ogni numero che va in edicola ogni due mesi dedica un servizio di approfondimento sullo stato dei lavori perché lui si impegna a consegnare entro due anni questi dieci orologi che sono tutti fatti a mano e non è un impegno da poco fare questi dieci orologi ci riesce prima dei dieci anni e quindi è prima dei due anni volevo dire e quindi è un successo un impegno rispettato ma si arriva poi a marzo di quell'anno eccezionale che è l'89 a marzo alla fiera di basilea annuale calabrese presenta il baladena che ancora faceva molto discutere e un nuovo orologio un nuovissimo orologio un orologio in sé assolutamente rivoluzionario una pendoletta chiamata Chouenz sono molto lieto di trattare di questo perché quando ho fatto il video intervista con Calabrese io ho fatto confusione circa questa pendoletta allora questa pendoletta come potete vedere anche dalle immagini è apparentemente di una semplicità straordinaria cioè è quasi inconsistente sembra quasi inconsistente perché ha due sfere si vedono due sfere e un pendolo ma il calibro dov'è? il calibro è montato nella sfera dei minuti cioè la sfera dei minuti che quindi fa un giro di tutto il quadrante virtuale in un'ora il quadrante virtuale perché il quadrante non c'è l'idea è sempre un po' spaziale in questa pendoletta praticamente ha il movimento nella sfera dei minuti che quindi gira tutto in un'ora e da questo punto di vista quindi è pielamente un tourbillon secondo il brevetto di Breguet a tutti gli effetti solo che invece di avere una gabbia che racchiude l'organo regolatore completo è tutto il movimento che ruota cioè è lo stesso concetto che poi vedrà nel 2001 la nascita dell'Ulysse Nardenne Frick ma qui siamo nel febbraio nel marzo dell'89 quando viene presentato questa pendoletta e tra l'altro non c'è il bilanciere perché essendo una pendoletta non ha bisogno del bilanciere può funzionare con un pendolo e visto che di solito i pendoli avevano pochi gradi di oscillazione ancora una volta con spirito iconoclasta viense in calabrese e decide di fare qualcosa di assolutamente insolito cioè di fare un pendolo che ruota oltre i 260 gradi e infatti avevo pubblicato un breve video e lo rimetto qui appunto di questa pendola che ha questa oscillazione è un orologio che però è talmente avanzato che non viene capito non viene compreso dal grande pubblico anche se fece molto rumore perché perché era assolutamente straordinario naturalmente così non poteva essere prodotto fu progettato e costruito in tre mesi da calabrese che disse che non dormiva la notte per fare questo orologio e naturalmente così non poteva essere prodotto in serie perché in realtà come spiega calabrese nell'intervista andata in onda sul precedente video a lui dedicato in realtà la regolazione dell'ora della precisione della regolarità di marcia di questo orologio era impossibile col pendolo cioè praticamente un millimetro mi sembra variasse di un'ora e mezza ecco cioè veramente impossibile quindi quindi ecco che non non può essere prodotta ma è una dimostrazione appunto di che cosa può fare se si si può fare se si percorrono sentieri nuovi e anche qui c'è la rivoluzione ma c'è anche la coerenza col tourbillon volante un nuovo tipo di tourbillon un movimento che comunque è sempre baghetta addirittura nelle dimensioni di una sfera di un orologio di una pendola e quindi c'è appunto il cambiamento la rivoluzione nella coerenza dei propri progetti ecco è chiaro da tutto questo e dalla difficoltà comunque di vendere gli orologi spaziali malgrado i dieci tourbillon consegnati in meno di due anni che saranno consegnati in meno di due anni nel 91 è chiaro che gli orologi spaziali fanno molta fatica ad essere ancora venduti e quindi Calabrese decide di sospendere la produzione in attesa di tempi migliori e di dedicarsi a orologi con cassa quadrante più tradizionali ma originali apparentemente ma originali nella interpretazione perché il Baladine nel suo successo gli dice che probabilmente questa è la via da seguire così si apre una nuova vena creativa di orologi di Vincent in Calabrese appunto per certi aspetti più tradizionali ma comunque come vedremo originali e significativi in occasione della ricorrenza dei 150 anni di Patek Philippe sempre nel 1989 Patek Philippe presenta una serie limitata di saltarelli anch'essa e li vende addirittura il listino era 20.000 franchi svizzeri e li vende addirittura a 30.000 subito e Cartier a sua volta presenta altri saltarelli e anche questi vanno via a prezzi alti anche se non come quelli di Patek e questo fa capire chiaramente che già allora nell'89 si vendeva anzitutto il marchio più prima ancora che l'orologio e le sue qualità e quindi questo induce a Vincent Calabrese ad una riflessione per cui un po' per prendere in giro questo mondo dell'orologeria decide di presentare una nuova serie di orologi chiamati Commedia perché Commedia perché innanzitutto sono orologi al quarzo sono orologi al quarzo perché voleva tenere il prezzo basso questi orologi Commedia sono dei saltarelli ma del tutto particolari perché praticamente c'è una sfera dei minuti che ruota ma l'ora viene indicata da una cifra saltante che è nascosta da una tenda e a mezzogiorno alle 12 la tenda si apre e fa vedere l'ora e poi si richiude e questo orologio ha un certo successo credo ne vengano prodotte alcune migliaia vedete la foto avete già visto la foto è comunque un orologio abbastanza significativo e importante e si è venduto molto bene appunto Calabrese comincia ad essere conosciuto poi lui pensa a una successiva serie Divina Commedia perché stavolta invece dell'ora saltante l'idea era quella che le tende facessero evidenziassero dei motti ripresi dalla Divina Commedia e anche adattati quindi con un messaggio ironico ma questo non funzionò e fu un fallimento però il fallimento portò poi al successo del successivo Mona Lisa in cui stavolta dietro le tende ogni ora si vede una nuova immagine ci sono una serie di immagini di cui solo una è culturale cioè è la Gioconda la Mona Lisa e le altre invece le altre 11 invece sono come posso dire il progressivo svestimento di una donna addirittura ore 11 la donna è completamente nuda ma ripresa da dietro e quindi questo orologio Mona Lisa ha un'indicazione a sfere di ore e minuti ma vi è questo erotismo che è anche un modo per Vincent Calabrese di denunciare la commercializzazione nella mercificazione del corpo finire questo orologio diverse migliaia di esemplari di questo orologio vengono venduti anche stavolta però la sorte gioca un brutto scherzo perché all'inizio del 91 noi abbiamo l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti dopo l'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq e a quel punto l'Italia che era il secondo paese importatore di orologi svizzeri al mondo per quantità in ordine decrescente praticamente il mercato si blocca e quindi anche Pinco che faceva i Baladen e che aveva acquistato il brevetto del Baladen si blocca e smette di costruire i Baladen di cui aveva già venduto duemila esemplari smette di costruirli e questo significa anzitutto uno stop delle royalties sul Baladen ma soprattutto lui non ha più la proprietà Vincent del Baladen e succede che un costruttore di orologi sia propria di un migliaio di questi calibri non si sa bene per quale vie e li fa lui senza chiedere niente a nessuno li si mette a montarli su proprie casse ci mette il proprio nome sopra e li vende come se fosse suoi e soltanto nel 1996 lui ritornerà in possesso del brevetto e quindi potrà poi far causa all'azienda e solo nel duemila riuscirà ad avere dei compensi per questi orologi pensate un po' anche in Svizzera ci vuole del tempo ma meno che in Italia viene poi chiesto al maestro di fare un meccanismo con indicazione della riserva di carica però vi viene chiesto di farlo su un automatico ecco su questo vorrei dire qualcosa di mio perché io ho sempre ritenuto che la riserva di carica sia molto utile quando c'è una lunga riserva di carica di diversi giorni e la carica è manuale oppure sugli automatici mentre i manuali con riserva di carica breve cioè entro le 40 48 ore per me su quelli la riserva di carica è molto meno utile perché essendo orologi che si caricano tutti i giorni la ricarica è sempre massima cioè invece su un automatico come sappiamo la ricarica può variare a seconda dell'attività e dei movimenti che facciamo soprattutto se tutti i giorni non facciamo esattamente sempre lo stesso lavoro d'ufficio e quindi più o meno sempre gli stessi movimenti quindi su un automatico è cruciale sapere se l'orologio è in una il movimento ha una carica sufficiente per una buona cronometria e anche su un orologio manuale ma con una lunga riserva di carica perché non ricaricandolo tutti i giorni ma magari un giorno alla settimana ecco che uno si può dimenticare poi certo anche sul manuale a breve carica la riserva a breve autonomia la riserva di carica indicata serve sempre per ricordare e ricaricare ma comunque la massima utilità per me è sugli automatici e lui lo fa solo che su un automatico il discorso è più complesso e forse anche tecnicamente perché serve un differenziale perché serve il differenziale perché in realtà sull'automatico tu hai contemporaneamente un movimento di carica e di scarica e quindi per tenere conto di entrambi i movimenti consentendo l'orologio nel frattempo di funzionare c'è bisogno di un differenziale che richiede dei calcoli matematici complicati è una complessità maggiore quindi lui mette a punto questo sistema che è un sistema molto valido perché è la riserva di carica più precisa anti-usura e più piatta del mondo ma purtroppo una volta che l'ha messa a punto il costruttore decide di lasciar di lasciar perdere per fortuna un collega di Vincent Calabrese aveva ricevuto la commessa di altri orologi con riserva di carica quindi alla fine quando questo collega vide la soluzione di Calabrese dice inutile che vada avanti nelle mie ricerche perché questo è ottimale e quindi fecero una partnership iniziano a costruire 15.000 calibri dotati di questa soluzione ma poi Calabrese decide anche di continuare a creare orologi con cassa tonda con quadrante ma appunto con soluzioni tecniche estetiche particolari e quindi propone una sua declinazione del modello riserva di carica e lo fa con un quadrante molto particolare prima di tutto perché colore argento opaco non lucido e poi il quadrante è lavorato a martello martellato si dice cioè è un sabbiato ma meno regolare con i grani un po' più grossi di solito e questa doppia lavorazione associata con la sfera delle ore e dei minuti lucida in acciaio lucidato creava una perfetta leggibilità e gli indici erano invece su una circonferenza in oro e la data ore 12 quindi completamente diversa dagli altri orologi e la riserva di carica la più piatta al mondo appunto a 6 e questo meccanismo era performante questo orologio power proprio per la riserva di carica più come posso dire più performante del mondo fu presentato nel 92 e lo state vedendo insieme a un altro anzi no lo state vedendo insieme a un altro orologio transworld il transworld è un orologio anch'esso molto innovativo con doppio fuso orario e vediamo dove sta l'innovazione oltre che la riserva di carica anzitutto il calibro base è sempre il 2892 di età perché è il miglior solo tempo disponibile sul mercato all'epoca siamo nel 92 94 quindi all'epoca era l'età solo tempo più sottile anche quindi aveva un senso usarlo per contenere i costi e quindi sviluppo una complicazione modulare e oltre che la riserva di carica concepisce un nuovo modo è più intelligente secondo me di indicare il secondo fuso orario perché fino a quel momento l'idea era stata quella di indicare con un numero oppure con un piccolo contatore l'ora locale ma questo è chiaramente un errore perché è molto più invece importante avere un orologio che indica con le sfere centrali l'ora locale e poi con dei piccoli contatori o dei numeri l'ora di casa perché perché quando la persona è nel proprio fuso orario tiene le ore centrali e i sub contatori sulla stessa ora quando invece viaggia chiaramente se va in un luogo trova sicuramente più utile avere l'indicazione con le sfere centrali dell'ora in cui va quindi dell'ora del fuso in cui si reca quindi dell'ora locale mentre l'ora d'origine e l'ora di casa rimane invariata e lì è utile che abbia l'indicazione di 24 ore perché così sa se a casa è giorno o notte nel caso il fuso sia abbastanza ampio la differenza di fuso sia abbastanza ampio quindi lui concepisce esattamente questo tipo di meccanismo l'idea è quella di avere un contatore per le ore diviso in 24 ore per l'ora di casa e un altro contatore subcontatore per i minuti dell'ora di casa e le sfere centrali si regolano tutto tramite corona non non ci sono altre possibilità di regolazione la corona tra scatti naturalmente con la corona tutta inserita si carica con la corona tutta estratta si muove l'ora locale e con la corona in posizione intermedia viceversa in un senso si muove la data nell'altro senso cioè nel senso orario si muove invece l'ora locale disgiunta ovviamente dall'ora di casa quindi ecco questo è il meccanismo che consente di regolare questo orologio e che lo rende più pratico il tutto in un spessore di 0,80 mm in aggiunta al 2,892 quindi lui decide che da quel momento tutte le complicazioni che saranno fatti su questi orologi avranno tutte lo stesso spessore e quindi ne presenta verso il 94 anche di più complicati infatti noi vediamo il daily che ha il doppio fuso orario però non c'è più il subcontatore separato per i minuti ma c'è solo il subcontatore per le ore per le 24 ore c'è l'indicazione della data l'indicazione del giorno della settimana e l'indicazione della riserva di carica sempre nello stesso spessore oppure nel mobile c'è l'indicatore della riserva di carica la data il doppio fuso orario e l'indicatore delle 24 ore di casa ma probabilmente quello che è assolutamente più interessante è il Janus fatto per Universal Geneva un orologio che tra l'altro conosco perché ce l'ha un conoscente collezionista molto estimatore di Vincent Calabrese che possiede uno di questi esemplari perché nel 94 ricorrevano i centenari della nascita di Universal Geneva e l'Universo Geneva voleva fare un orologio esclusivo quindi cosa fa? Vincent Calabrese concepisce un orologio a cassa reversibile esattamente come il reverso quindi a due quadranti ma su un quadrante abbiamo su un quadrante abbiamo la fissione dell'ora e dei minuti tramite sfere sull'altro quadrante abbiamo invece le ore saltanti i minuti l'indicazione giorno-notte e la data quindi cosa significa? che il quadrante normale si usa quando non si viaggia e quindi si ha bisogno solo di ore e minuti locali eccetera quando si viaggia viceversa si può usare il quadrante appunto lo stesso quadrante per ore e minuti locali e l'ora di casa viceversa viene indicata sull'altro quadrante con l'ora saltante i minuti e l'indicazione giorno-notte quindi che consente di capire se a casa fa buio o c'è luce e la data veramente un bello orologio nello stesso anno alla fiera di Basilea Gégé Lecoutre presente il reverso che era stato rilanciato da pochissimo con un secondo quadrante no? quindi anche questo GMT ma è meno sofisticato ha meno indicazioni di quello presentato da Vincent Calabrese ed in più è anche più spesso quindi il Janus di Vincent Calabrese è fatto in 500 esemplari tra l'altro se non ricordo male aveva anche una scatola a forma di libro proprio che doveva in un certo senso dare l'idea di illustrare la storia appunto di Universa Genève è un pezzo veramente magnifico che io invidio 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 molto e sono Calabrese dovete fare una specie di tour de force per fare questo orologio perché praticamente il 13 dicembre del 1993 firme il contratto per il deposito di un brevetto e per la concezione e la fabbricazione di 500 orologi di questo tipo il 9 aprile consegna 10 orologi ad antiquorum che vengono battuti all'asta e sono stati giudicati in media 35.000 franchi svizzeri non poco e già 5 giorni dopo lui deve avere pronti altri 10 Janus per la fiera di Basilea perché apre la fiera di Basilea dove sarà presentato ufficialmente questo orologio e riesce in questa sfida tra l'altro fra il 91 e il 94 mentre ha queste produzioni di orologi diciamo non tecniche innovativi ma non così innovativi come i primi con una meccanica commerciale con dei moduli di complicazione in grande numero lui al tempo stesso fra il 91 e il 94 crea sei meccanismi differenzi per sei differenti marche di orologeria non sono descritti ma naturalmente facciamo fede a quello che ci dichiara Vincent Calabrese alla fiera di Basilea del 1995 Vincent Calabrese presenta un orologio che a me piace molto cioè il Nye Day come potete vedere si tratta di un orologio che ha la funzione di indicazione delle 24 ore in aggiunta alla data collocata ore 12 e in aggiunta alla riserva di carica collocata ore 6 come funziona funziona in questo modo che praticamente fra le ore 12 della mezzanotte e le ore del 11 59 del mezzogiorno gli indici sono indicati da cifre romane alle ore 12 del mezzogiorno gli indici cambiano da cifre romane a numeri arabi che indicano quindi le ore da 13 a 23 e questa soluzione io la trovo veramente molto bella molto elegante e so che questo orologio è prodotto ancora oggi da Vincent Calabrese Vincent Calabrese ottiene poi un notevole successo in Giappone grazie al fatto che il disegnatore manga Matsumoto fa un reportage dedicato all'orologia svizzera che si conclude proprio nel suo atelier e gli dà molto spazio e quindi viene conosciuto lì il Giappone è un mercato importantissimo per l'orologeria di alto livello lo sappiamo da sempre i giapponesi acquistano tra i migliori orologi al mondo e sono anche molto amanti dell'arte quindi è un mercato ideale e per questo divenuto il primo mercato quello giapponese per Vincent Calabrese allora produce tourbion volanti come abbiamo visto con penso una sfera dei minuti e un piccolo contatore presumo delle ore oppure sfera di ore minuti e secondi non ne sono sicuro perché non si vede bene e abbiamo anche un esprit altri esempi poi sono questo spaziale con un ideogramma giapponese il Pegasus che credo anche oggi sia prodotto cioè sempre con lo stesso sistema ancora una volta con i suoi orologi spaziali Calabrese piega le esigenze tecniche che all'estetica e in questo caso alla simbologia e ai caratteri giapponesi state ora per vedere quello che io considero il capolavoro delle tecniche cioè il 52 fatto nel 96 quando il maestro compie 52 anni ed questo orologio voi pensate che sembra così semplice a vedersi ma ha doppio fuso orario indicazione della riserva di marcia la data il giorno e l'indicazione a mpm la settimana il mese e come d'abitudine tutte le indicazioni sono regolabili tramite corona quindi un orologio molto più complicato e pensate che rispetto al calibro di base il solito età 2892 sono soltanto un millimetro in più di spessore cioè è veramente un capolavoro mi piacerebbe averne uno sempre nel 1996 vince Calabrese il premio Gaia del museo dell'orologeria della Schottfond un premio indetto dal museo che viene dato appunto per i meriti nel rilancio dell'orologeria meccanica nel 1998 viene poi presentato l'horus che ha una affissione del tempo originale anche stavolta è la collezione ludica qui abbiamo una grande sfera centrale dei secondi le ore sono indicate nel subcontatore e i minuti sono indicati dalla rotazione del subcontatore attorno al quadrante cioè fa una rotazione in 60 minuti a un indice che appunto indica sulla scala i minuti la lettura consente la lettura dei minuti sulla scala e la caratteristica è che questo contatore ruotando per indicare i minuti resta sempre verticale quindi la lettura è facilitata da questo fatto naturalmente tutto questo dà un maggior reddito a Vincent Calabrese che finalmente può abbandonare quel suo primo laboratorio passare a un laboratorio molto più grande molto più spazioso iniziare ad assumere degli orologiai alla fine arriverà ad avere otto persone alle proprie dipendenze e tra l'altro compreso le figlie e come dicevo lui non ha mai venduto un orologio uno dei suoi orologi perché gli si sono sempre presentati i clienti a comprarli cioè non li ha mai venduti lui li piazzava senza problemi da rivenditori e sulle riviste specializzate e il Giappone rappresentava l'ottanta per cento del mercato quindi quando poi c'è stata nel 99 la crisi del Giappone lui ha dovuto praticamente licenziare tutti i suoi dipendenti ed è rimasta la figlia e quindi lui ha dovuto anche riprendere dei lavori che nel 95 gli erano stati proposti ma non poteva fare perché allora era in piena produzione di tutti i suoi orologi fra cui quello per la Maison Enigma che aveva prodotto un saltarello piuttosto bello interessante ma che non era affidabile e l'Enigma chiese a Calabrese di rifare il meccanismo per renderlo affidabile e naturalmente Calabrese ci riuscì nel 2000 viene presentato il 20 cent cioè 20 volte 100 quindi 2000 ma anche 20 cent 20 cent questo orologio è di fatto una versione modificata del baladenne usato l'effetto di rifrazione della luce che Vincent aveva studiato nel lontano 1971 cioè sostanzialmente cosa ha fatto ha quindi mantenuto diciamo così l'impostazione del baladenne cioè saltarello in cui abbiamo una finestra che dà l'ora che salta e i minuti sono indicati dal muoversi di questa finestra attorno al quadrante dell'orologio solo che lui al centro aggiunge qui un vetro zaffero sintetico e in mezzo c'è un foro in cui mette la sfera dei secondi cosa succede succede che se si guarda l'orologio da di fronte si vede tutto e si legge chiaramente secondi ore e minuti ma se l'orologio lo si guarda inclinato pian piano sparisce tutto l'interno del quadrante eccetto la finestra che indica le ore in minuti e quindi è un effetto ottico voluto che è un po' un omaggio diciamo così anche all'idea dei buchi neri l'anno 2000 avrebbe dovuto essere nelle fantasie quindi prima dell'anno 2000 l'anno dei viaggi spaziali cosa che non è stata e quindi c'è anche questo riferimento con l'anno 2000 si aprono nuove collaborazioni per Vincent Calabrese con marchi vari non le citerò tutte ma c'è un episodio che ritengo significativo è anche un po' sfortunato per certi aspetti cioè si tratta dell'accordo che Vincent Calabrese ma diciamo l'Accademia Orologera dei Creatori Indipendenti stipulò con Goldfile Goldfile era allora nel 2000 la più importante la più grossa azienda di articoli di pelle del mondo quindi era un colosso nel suo settore e che cosa accade? accade che viene firmato grazie a Calabrese per la prima volta con la HC viene firmato un contratto e Goldfile desiderava entrare nel mondo di orologerie e quindi si era rivolta a Calabrese all'Accademia dei Creatori Indipendenti come avevano fatto altri d'altronde però era stato segnato un contratto che coinvolgeva tutta l'associazione per cui praticamente erano sette orologiai che dovevano creare ciascuno un orologio l'orologio doveva essere prodotto ciascuno in cento pezzi più c'era un pezzo che doveva andare all'asta chi comprava i rivenditori che compravano gli orologi per poi proporre i loro clienti dovevano comprare confezioni con l'assortimento di tutti e sette gli orologi e nel contratto era scritto che questi sette orologi dovevano essere presentati alla fiera di Basilea del 2001 questi orologi prima ancora della fiera erano già tutti venduti tutti venduti nel modo più assoluto ci furono alcuni problemi organizzativi per la produzione dei pezzi che non riguardarono i pezzi assegnati direttamente a Calabrese Calabrese realizzò non solo tutti i cento pezzi in tempo ma ne realizzò ulteriori ottanta e furono comunque tutti venduti altri pezzi però non arrivarono diciamo così in tempo e in maggio ci fu del 2001 il crollo della borsa e poi ci fu l'11 settembre e i commercianti annullarono tutti gli ordini questo provocò un danno per Godfile di circa 30 milioni di euro e Godfile poi fece fallimento non solo per questo certamente visto che Godfile era un colosso da molti miliardi di euro di fatturato anno però certo anche questo può aver pesato parliamo poi di cosa era successo per l'asta perché avevo detto che ciascuno dei sette orologiai doveva produrre un pezzo in più per essere battuta all'asta gli accordi con Cristi erano che praticamente tutti i pezzi dovevano essere messi in vendita con un prezzo base di 50 mila euro ma non si sa bene per quale ragione quello di vince in calabrese fu messo in vendita con un prezzo di 5 mila euro e praticamente non arrivò nessuna offerta in tutto questo diciamo così evento un po' sfortunato in cui alla fine l'accademia più che calabrese perso un'occasione perché in realtà ripeto i cento pezzi di calabrese in più oltanto ulteriori con delle modifiche furono da lui tutti venduti però indubbiamente per l'accademia fu un po' una perdita di un'occasione in una vicenda un po' sfortunata nel 2003 calabrese anche dopo aver perso la possibilità di usare la sua figlia Tina di utilizzare per le pratiche amministrative lui calabrese ha sempre cercato ovviamente l'avrete capito di creare quindi di dedicarsi soltanto a questo più che al marketing e all'amministrazione quindi cercava sempre di sistemare questi aspetti purtroppo sono state fatte scelte di vita diverse lui si è trovato solo quindi ha avuto la necessità di avere un socio e con un socio hanno costruito una sorta di branca dell'orologeria calabrese distinta da quella artigianale che doveva produrre orologi industriali le cose non andarono bene fra il 2003 e il 2006 ci fu la rottura con il socio dovuta proprio a visioni diverse cioè calabrese sentiva che non questo impegno industriale non gli consentiva di presentare di innovare e quindi deludeva un po' chi si aspettava da calabreso ogni anno delle novità dall'altra parte il socio non era soddisfatto insomma alla fine lui riprende tutto anche i dipendenti nel 2006 ma questo lo mette in condizioni finanziarie un po' delicate pur tuttavia in questo frangente come sempre è accaduto nella vita di calabrese lui si imbocca le maniche e accetta una commessa di Sellita chi è Sellita? Sellita ormai lo sanno tutti è quell'azienda che produce cloni di ETA che poi cloni cloni non sono perché sono ETA modificati per certi aspetti migliorati ma quello che molti non sanno è che Sellita prima che ETA chiudesse i rubinetti delle forniture Sellita era in realtà l'azienda che assemblava gli ETA cioè la ETA utilizzava la Sellita per l'assemblaggio e il lavoro di Sellita era di altissima qualità addirittura superiore all'assemblaggio ETA ok? poi cosa è successo quando Hayek è riuscito a Hayek anzi non Hayek Hayek è riuscito a limitare la fornitura alle grandi case e in un certo modo ne hanno risentito soprattutto le piccole che non avevano i mezzi per sviluppare i propri calibri Sellita ha cominciato a produrre cloni dell'ETA 2894 ma non perfettamente identici e su questo Vincent Calabrese ha qualche merito che andrò a spiegare in dettaglio il rapporto fra Sellita e Calabrese in realtà risaliva già all'epoca precedente cioè quella in cui Calabrese utilizzava come base gli ETA 2892 su cui poi metteva le complicazioni allora Calabrese faceva questo lavoro praticamente riceveva le bosche grezze da ETA Calabrese le modificava per il suo orologio per costruire il suo orologio apportava dei fori eccetera anche nella platina quindi non solo aggiungeva il modulo ma fatto da lui ma anche lavorava sulla platina vedremo perché poi dopo rimandava mandava il tutto a Sellita la quale rifiniva il calibro con questa collaborazione praticamente a tre Calabrese riuscì anche a fare in un anno 600 orologi con quelle complicazioni che ho descritto per il periodo precedente cioè eccetera il 51 eccetera eccetera 52 anzi non mi ricordo più e comunque detto questo lui non è che per fare questi orologi complicati applicava semplicemente un modulo sopra cioè la complicazione era modulare ma lui riusciva facendo dei fori sulla platina che gli forniva ETA del 2892 riusciva a parzialmente integrare le complicazioni ecco perché in un orologio riesce ad avere sei complicazioni con solo un millimetro di spessore aggiuntivo rispetto allo spessore del 2892 di ETA ma c'è un altro passaggio che è questo dunque Selita rifiutò di adottare le ruote i profili delle ruote di ETA per non avere problemi con ETA anche se in questo caso avrebbe fatto forse meglio a fare questa operazione ma Calabrese poté intervenire a correggere un limite del 2892 il limite del 2892 di ETA era nel pignone centrale della ruota dei secondi che tendeva a staccarsi con il tempo cioè non era abbastanza solido lui introdusse propose a Selita che la recepì una modifica in modo che così gli cloni dell'ETA 2892 che escono da Selita avevano questa modifica a differenza degli ETA e quindi per quella modifica che comunque è piccola ma è stata importante comunque Selita gli è stata sempre riconoscente perché è stato un miglioramento del calibro ETA di base ci interrompiamo qui con Selita e riprendiamo nel prossimo video dal 2006 con il resto della parte della vita delle opere di Vincent Calabrese fino al 2016 mi raccomando restate sintonizzati grazie al prossimo video Grazie a tutti